siamo raccolti nella nostra comunità nella chiesa cristiana evangelica assemblee di dio in italia di parma per quello che il nostro secondo culto della giornata vogliamo rivolgerci alla scrittura la parola di dio e leggere dal vangelo di matteo capitolo 24 dal versetto 36 matteo capitolo 24 versetto 36 dice così e gesù che parla ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli del cielo neppure il figlio ma il padre solo come fu i giorni di noè così sarà la venuta del figlio dell'uomo infatti come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva si prendeva moglie e si andava a marito fino al giorno in cui noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutto tutti quanti così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo allora due saranno nel campo l'uno sarà preso e l'altro lasciato due donne macineranno al mulino l'una sarà presa e l'altra lasciata vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il vostro signore verrà sappiate questo che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la sua casa perciò anche voi siate pronti perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà quale mai il servo fedele e prudente che il padrone è costituito sui suoi domestici per dare loro il vitto a suo tempo beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni ma se quel servo malvagio dice in cuor suo il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi servi con i suoi conservi e mangia e beve con gli ubriaconi il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta nell'ora che non sa e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli ipocriti lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti con questo testo gesù rivolge ai suoi discepoli e a tutti quanti noi delle esortazioni alla vigilanza gesù presto verrà noi non sappiamo quando ma sappiamo che verrà e quindi quali suoi figliuoli quali servi vogliamo essere pronti perché per noi non ha importanza quando gesù ritornerà se siamo sempre pronti al suo ritorno il problema è per chi non è pronto ma il credente pronto perché perché aspetta il ritorno di gesù perché crede in gesù che ritornerà perché vuole ubbidire alla parola di dio che ci esorta alla vigilanza dobbiamo sempre essere vigili non dobbiamo mai abbassare la guardia e gesù qui in questo testo rivolge innanzitutto come dicevo un'esortazione alla vigilanza affinché nessuno si distragga dal fare la volontà di dio in modo da non essere poi pronto al suo ritorno ma gesù ci dice anche come noi dobbiamo adoperarci mentre aspettiamo il suo ritorno e c'è un'espressione molto bella usata da gesù per indicare quella che deve essere la condizione dei credenti dei fedeli dei servitori del signore al momento del suo ritorno versetto 46 beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato beato il servo così occupato che differenza con marta come abbiamo considerato all'altro culto concedetemi voi non eravate presenti di fare un accostamento con l'altro culto gesù nel capitolo 10 di luca al versetto 41 dice a marta 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 tutti affanni e sei agitata per molte cose mi piace questo rimprovero amorevole di gesù verso marta e verso tutti quei credenti che sono così ripiegati soltanto per le cose della vita che si affannano soltanto per le cose della vita tutti affanni e sei agitata per molte cose un'altra versione dice ti affanni e ti inquieti per molte cose un'altra versione ancora dice tu sei sollecita e travagliata per molte cose non ci affanniamo per le cose della vita viviamo per il signore delle cose della vita ma non per le cose della vita il credente non vive per le cose di qua giù vive delle cose di qua giù per le cose di lassù e allora se noi facciamo nostro il consiglio l'esortazione di gesù non ci affacenderemo in maniera eccessiva per le cose materiali addirittura a discapito per il nostro rapporto con il signore della nostra vita credente di cristiani di credente e quando noi ci adoperiamo per il signore per fare la sua volontà con tutto il cuore veniamo definiti da gesù servitori così occupati beati beato quel servo così occupato non occupato come marta in quella circostanza dove gesù la rimproverò ma beato quel servitore così occupato perché non è occupato dalle cose della vita è occupato per piacere al signore è occupato per onorare dio è occupato per fare la volontà di dio questa è la vera vita fratelli essere occupati per il signore perché quando tu sei occupato per le cose di questa vita rimarrai insoddisfatto ti ritroverai a rincorrere non so che cosa ma comunque quella chimera non sarà mai raggiunta quell'obiettivo non sarà mai realizzato e rimarrai inevitabilmente illuso e deluso se invece tu fai la volontà di dio io faccio la volontà di dio noi troveremo piena soddisfazione perché la gioia del credente è vivere per il signore è piacere a lui e usare la propria vita per fare la volontà del signore e spendere i propri anni e gli anni migliori alla gloria del signore questa è la vita del credente beato quel servo così occupato perché sapete noi il nostro tempo lo possiamo occupare o per le cose della vita o per le cose di qua del per il signore per le cose di lassù dipende da noi come occupiamo la nostra vita come impieghiamo la nostra vita come occupiamo il nostro tempo la qualità della vita non non dipende da ciò che noi possediamo materialmente ma per chi viviamo e se viviamo per il signore la nostra vita sarà di una qualità eccellente io e tu scegliamo che tipo di vita vivere se è una vita disastrosa insoddisfatta vuota grama inappagata se è una vita mediocre o se è una vita eccellente e la vita è vissuta in maniera eccellente se è vissuta per il signore gesù e se possiamo unirci all'apostolo paolo e dire non sono più io che vivo ma è cristo che vive per me questa è la vera vita la qualità della vita e questa espressione di gesù beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato mette in evidenza tre aspetti della vita del credente del servo di dio apro e chiudo una parentesi il servo di dio non è chi fa qualcosa di specifico di particolare e chi si dispone per il signore perché dio possa disporre della sua vita come dio stesso vuole questo è il servo di dio noi a volte pensiamo che il servo di dio sia chi fa qualcosa di particolare non è ripeto chi fa qualcosa di specifico e di particolare il servo la servente di dio ma chi si dispone perché dio possa disporre della sua vita come dio vuole quello è il servo di dio poi può essere impiegato in un modo può essere impiegato in un altro ma non è ciò che facciamo ma per chi lo facciamo che ci contraddistingue quali servi e serventi del signore beato quel servo così occupato il servo così occupato per il signore ha tre peculiarità tre caratteristiche prima di tutto egli da la priorità al signore poi egli è laborioso nel servizio per il signore e infine egli è fedele beato quel servo così occupato noi vogliamo essere come quei servi così occupati è vero fratelli e sorelle allora dobbiamo avere per l'aiuto e la grazia di dio queste tre caratteristiche prima di tutto la priorità per il signore noi siamo servi del signore se il signore al primo posto nella nostra vita sapete dio non si accontenta del secondo del terzo del quarto posto nella nostra vita o ha il primo posto o le cose non vanno bene che posto hai dato al signore gesù nella tua vita questo lo stabiliamo noi fratelli e sorelle ma se noi non diamo il primo posto al signore nella nostra vita la nostra vita non sarà mai benedetta la benedizione non dipende da come noi viviamo la vita ma dal posto che occupa il signore nel nostro cuore cercate prima dice gesù il regno è la giustizia di dio che cos'è il regno di dio il regno dei cieli è una cosa il regno di dio è un'altra cosa che cos'è il regno di dio è semplice il regno di dio è il luogo dove dio regna dove dio è sovrano dove dio è al primo posto dove dio governa secondo la sua volontà il regno di dio deve essere nel nostro cuore lo dice gesù il regno di dio è nel vostro cuore il regno di dio deve essere nel nostro matrimonio il regno di dio deve essere nella nostra famiglia il regno di dio deve essere in qualsiasi luogo e qualsiasi cosa io e voi facciamo cioè dove il signore gesù governa dove lui è sul suo trono gloria a dio cerchiamo prima il regno di dio la sua giustizia dio prima di tutto la volontà di dio anteposta alla nostra fratelli e sorelle non dobbiamo noi aspettare che dio sottoponga la sua volontà alla nostra ma la nostra volontà si deve arrendere alla volontà di dio perché la volontà di dio per noi è sempre buona gradita accettevole perfetta e dice lo scrittore biblico io prendo piacere nel fare la tua volontà e addirittura leggiamo non la mia ma la tua volontà sia fatta fratelli sorelle quando io e voi facciamo la volontà di dio quando io e voi cerchiamo prima il regno e la giustizia di dio quando dio viene prima di tutto e di tutti allora noi saremo così occupati a fare la volontà di dio a onorare il signore a servire dio non soltanto la priorità per il signore ma anche la laboriosità per il signore il credente non si limita ad avere delle buone intenzioni dei buoni propositi dei buoni desideri tanti desideri onorevoli tanti desideri onorevoli tante buone intenzioni rimangono tali ma non producono nulla perché i miei e i tuoi desideri per il signore producano la benedizione si devono trasformare in azioni vi ricordate quel servo o meglio quel figlio al quale il padre disse vai a lavorare nella mia vigna ed egli disse sì aveva dei buone delle buone intenzioni aveva una buona attitudine verso il padre aveva una buona disponibilità verso colui che lo aveva chiamato ma poi non vi andò ci sono credenti che vivono di buoni intenzioni di buoni propositi ma non concludono mai niente sapete le buone bene le buone intenzioni non producono benedizione fratelli e sorelle gesù dice una cosa così bella lapidaria come sempre se sapete queste cose siete beati se le fate non siamo beati se le sappiamo se sappiamo quella che è la volontà di dio non siamo beati se abbiamo l'intenzione di fare la volontà di dio non siamo beati se vogliamo onorare il signore in ogni situazione se vogliamo evangelizzare se vogliamo pregare se vogliamo essere di edificazione per gli altri se vogliamo dare il nostro contributo nella comunità siamo beati se facciamo ciò che dio ci chiede troppi si fermano alle buone intenzioni onorevoli lodevoli ma non bastano laboriosi per il signore beato quel servo che il padrone troverà così occupato non dice beato quel servo che il padrone arrivando troverà con buone intenzioni troverà con buoni propositi troverà con buoni progetti ripeto ci sono credenti che dal momento della conversione al momento della fine della loro vita cristiana sono sempre caratterizzati da buone intenzioni ma non concludono mai nulla mai nulla ripeto i sentimenti sono eccellenti ma non bastano non bastano se tu aspetti la situazione ideale personale familiare economica lavorativa per fare qualcosa per il signore sappi che non arriverà mai se tu aspetti che le condizioni la situazione si mette in modo tale che tu possa essere nella condizione ideale per servire il signore sappi che le cose non andranno così onora dio nella condizione dove ti trovi servi dio nonostante gli innumerevoli impedimenti perché sapete chi vuole fare la volontà di dio chi vuole evangelizzare chi vuole servire il signore non troverà da parte delle circostanze da parte degli uomini da parte del nemico la strada spianata ma troverà soltanto ostacoli troverà soltanto scoraggiamenti troverà soltanto situazioni difficili ma il credente che vuole onorare dio e si affida a lui e si adopera vede l'opera di dio compiersi e dio gli darà delle opportunità per onorarlo e servirlo laboriosi tutto ciò che dio ci chiede di fare quello vogliamo fare il credente non serve dio in ciò che lo gratifica il credente non serve dio in ciò che gli piace fare il credente serve dio in ciò che dio gli chiede di fare perché per noi non è importante l'incarico per noi è importante servire il re il signore un giorno un pastore disse a una sorella la quale aveva il figlio molto impegnato nel servizio sorella sei contento contenta che tuo figlio serve il signore no fratello perché mio figlio ha smesso di servire il re e ha cominciato a servire il regno fratelli non ha importanza se nel regno noi siamo dei semplici e umili servi l'importante che serviamo il re lasciamo stare per cortesia l'incarico il ruolo di prestigio la collocazione nella comunità visibile fratelli e sorelle non sono buoni sentimenti se noi siamo animati da un incarico di prestigio di onore e se noi abbiamo questi sentimenti state pur certi che il signore ci ostacolerà se invece io e tu vogliamo servire il signore con dei buoni sentimenti non importa che cosa dio ci chiederà di fare state pur tranquilli che il signore ci darà tante di quelle opportunità per servirlo e ci darà finanche delle opportunità di onore di prestigio perché perché non ci monteremo la testa perché abbiamo buoni sentimenti che dio conosce gloria a dio servi il signore quello che c'è da fare quello che la tua mano trova da fare occupati nell'opera di dio sapete perché dei credenti non sono occupati nell'opera di dio non perché non hanno di che fare nell'opera perché c'è così tanto da fare gesù dice il campo è grande gli operai sono pochi sono pochi fratelli mancano operai per raggiungere i 460 mila abitanti della città e della provincia di parma per raggiungere 460 mila persone c'è bisogno di operai che vadano per le strade e annunciano l'evangelo della grazia chi si abbassa sarà innalzato chi si umilia poi sarà innalzato e non ci sarà il problema che si ha la testa perché si è umiliato beato e se io e voi siamo così impegnati per le cose della vita non troveremo il tempo per le cose del signore vedete ci sono alcuni che dicono ora sono troppo giovane non posso servire il signore devo prima fare un po di esperienza poi dopo arrivano gli impegni arrivano i figli arriva il marito arriva la moglie arriva il lavoro e adesso i figli sono troppo piccoli devo lavorare devo fare straordinario poi quando i figli cresceranno poi i figli crescono e poi arrivano i nipoti poi la salute non ti aiuta più c'è la stanchezza poi è finito tutto e cosa aspetti un'altra vita per ricominciare la vita è una o la vediamo per la gloria di dio la sprechiamo per le cose di questo mondo ma poi non ci rammarichiamo per come abbiamo vissuto la nostra vita perché io e voi scegliamo come vivere la vita fratelli e sorelle che priorità stai dando sto dando nella mia vita è il signore al primo posto fare la volontà di dio viene prima di tutto ripeto non sarà facile non ti aspettare che ti stendono i tappeti rossi e ti suonino la fanfara non è così laboriosi un'ubbidienza incondizionata ora vi dico una cosa quando il signore mi ha salvato io ho fatto subito ho iniziato una preghiera signore ora ti chiedo una cosa ti chiedo una cosa io ti voglio servire ti voglio servire come quando e dove tu vuoi poi ricordo in un'occasione particolare ho detto signore stavo considerando il mio pastore ti chiedo una cosa io ti voglio servire ma non come pastore non come pastore e poi ho detto quello che volevo fare io voglio andare evangelizzare poi ricordo in un'altra occasione me lo ricordo in un'occasione specifica alcuni anni prima che il signore mi chiamasse al ministerio signore ti voglio servire in tutto quello che tu vuoi ti do carta bianca la mia vita e nelle tue mani se pensi di poterla usare in qualcosa quello che tu vuoi io lo farò dove tu vuoi che io andrò io andrò signore mi metto a tua completa disposizione disposizione dio mi ha preso in parola non me ne sono mai bendito che bello poter onorare dio che bello poter consumare la propria vita per gesù non facendo il pastore basta quello che c'è da fare fratelli e sorelle cosa vuol dire consumare la propria vita per gesù vivere portando avanti le proprie responsabilità familiari lavorative eccetera e poi tutto il resto per il signore tutto per il signore e se impieghiamo bene la nostra vita state pur tranquilli che per il signore ce ne rimane del tempo ce ne rimane ce ne rimane tanto perché dio passatemi la battuta ma non è una battuta come gesù ha moltiplicato i panni e pesci è in grado di moltiplicare il nostro tempo e le nostre forze e le opportunità per servirla in quello che c'è da fare nell'opera di dio fratelli e sorelle bisogna mettere il massimo impegno sapete la bibbia dice qualcosa di forte lapidario maledetto e già questa parola come prefisso è forte maledetto colui che fa l'opera del signore fiaccamente eppure fa l'opera del signore ma la fa fiaccamente altre sono le parole del salmista mi ferve in cuore una parola soave io dico l'opera mia è per il re non dice mi ferve una carola soave io ho un ruolo di prestigio io un ruolo onorevole io un ruolo gratificante no no mi ferve in cuore perché l'opera mia è per il re beato quel servitore così occupato la volontà di dio il servizio a dio è una cosa seria fratelli vi voglio fare una domanda dio dandoci gesù ha fatto sul serio o no ha fatto le cose per bene o no dio nei nostri confronti è mai stato superficiale è mai stato approssimativo e cosa merita il signore il meglio le primizie ciò che è di valore per il signore ci sono alcuni che danno al signore la rimanenza del loro tempo la rimanenza delle loro risorse la rimanenza delle loro forze non è così che ha fatto il signore con noi prima per il signore se andate a leggere nell'antico testamento leggerete qualcosa di interessante che le primogeniture e le primizie cioè i primi frutti del greggio e i primi frutti della campagna dovevano essere consacrati all'eterno prima il signore il meglio per il signore vi dico una cosa con tutto il cuore se il signore mi dovesse chiamare adesso stesso me ne vado a casa soddisfatto perché il meglio della mia vita l'ho data a lui e non me ne sono mai pentito sono passati quasi 38 anni ma sono stati 38 anni meravigliosi vissuti per Gesù anni intensi anni pieni dove il signore ogni giorno mi ha stupito mi ha meravigliato mi ha commosso per quello che ha fatto per la mia vita e sono grato al signore per aver dato il meglio della mia vita il meglio delle mie forze per lui non me ne sono mai pentito è stato difficile sì ma è stato bello perché la vita con Gesù è meravigliosa e infine la fedeltà sì fedeli a dio e alla sua parola la fedeltà è la caratteristica richiesta dal signore per vivere il nostro cristianesimo e per il servizio cristiano dio non cerca le capacità perché ce le da lui dio non cerca da noi mezzi e le risorse perché ce le da lui vuole la fedeltà e se noi siamo fedeli il signore ci dirà ben fatto mio buono e fedele servitore la fedeltà a dio la fedeltà alla sua parola la fedeltà in ogni circostanza in ogni circo noi fratelli e sorelle non facciamo ciò che dio ci chiede di fare perché poi ci sono i risultati ci saranno i risultati ma non sono quelli che ci animano noi lo facciamo per ubbidienza dio ce lo chiede io lo faccio ci sono i risultati gloria a dio non ci sono i risultati signore sia lodato ci sono alcuni credenti che quando in quello che fanno non vedono i risultati si scoraggiano e vengono meno allora vuol dire che non erano non era l'ubbidienza che ti animava ma erano i risultati l'ubbidienza dio la fedeltà me lo chiede dio lo faccio c'è qualche risultato dio sia lodato non c'è continuerò a farlo continuerà a farlo fedeli nel tempo sapete tanti hanno messo la mano all'aratro ma poi quando tenere l'aratro e fare il solco dritto e spingere e avanzare è diventato duro hanno deciso di voltarsi indietro ahimè costoro per detta di gesù non sono adatti al regno di dio perché la vita cristiana non è una passeggiata la vita cristiana è un combattimento dove noi dobbiamo onorare colui che ci ha arruolato dobbiamo piacere a lui e dobbiamo vivere la nostra vita per lui e poi il resto per noi ma ci accorgeremo che quando viviamo per lui la nostra vita sarà benedetta e a noi ci penserà lui io vi dico in verità che lo costituirà sopra tutti i suoi beni la benedizione di dio vogliamo dire questa mattina signore qui c'è la mia vita usala come quando dove tu vuoi e sarà dio ad appianare ogni cosa per poter servire dio il credente non deve fare a gomitate non deve cercare l'incarico perché sapete il credente non si propone si dispone nelle mani di colui che ha un piano per la sua vita e dice signor io sono qua e poi tutto quello che la tua mano trova da fare fallo per il re dei re alziamoci vogliamo riuscire